Per voler iniziare un'attività del tipo c'è una scuola da fare? Sì, sì, sì. Si fa... Voi siete qui di un classico? No, loro sono... Lui è un altro di Genova, io abito a Piedra Ligure. Ah, proprio. Sì, si fa un corso, bisogna prendere l'area teorica da testato, sì, sì. Si fa un corso presso una scuola certificata, c'è un po' l'esame di teoria, un esame per tipo scuola guida. C'è un esame di teoria. E qua, in questo momento, qua ce ne sono poche perché c'era una scuola a Genova, dove l'abbiamo fatta praticamente tutti noi. Adesso lui però si è spostato ad Aquiterme perché gestisce un'aviosuperficie dove fa anche paracadutismo e altre attività sempre legate al volo. È bello, oggi è una giornata veramente bella, sì. Si faceva bene il volo lì in dinamica qua sopra e piacevole, sì. Ma per iniziare com'è? Si può noleggiare l'attrezzatura o va... No, durante il corso, ovviamente, sì, 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 nella quota che uno fa il corso danno tutto. Non so, non so, non so. Non so, non so, non so.